Un Trapani che potrebbe giocare, ma io mi lascio sempre, come dico ai ragazzi, il dubbio, nel senso se si cambia, si fa degli accorgimenti in funzione dell'avversario, però noi dobbiamo avere la nostra identità, noi dobbiamo essere una squadra che deve avere una propria fisionomia e cercare di sfruttare le nostre caratteristiche. Il Frosinone gioca un 4-4-2, è vero che gli esterni titolari non ci sono, uno per l'infortuno per squalifica, Soddimo e Paganini, però è una squadra che ha perso l'ultimo, non ha vinto prima sette di fila, sono arrivati secondi in classifica, è una squadra che ha un'identità, Pasquale Marino è un amico, è un ottimo allenatore, è una società che ha retrocesso alla Serie A, che ha la struttura, sta già programmando uno stadio nuovo, è una società che è organizzata, che ha idea di cosa vuole, ha mantenuto i stessi uomini dello scorso anno, ma queste sono tutte cose che noi sappiamo, però non è che ci fanno timore, non ci fanno paura, noi abbiamo rispetto, però noi dobbiamo diventare una squadra che diventa fastidiosa, rognosa per tutti, voglio gente che oltre alla tecnica deve tirare fuori qualcosa in più, e allora vediamo che succede, questo è l'obiettivo alla lunga.